Ehi, hai 25 anni? Se hai ricevuto due dosi di vaccino contro l'HPV prima di aver compiuto 15 anni, l'invito al primo screening del collo dell'utero è posticipato di 5 anni. Lo screening è semplice, gratuito, non doloroso e dura solo 5 minuti. Ma di questi 5 minuti ne riparliamo tra 5 anni. Programma della Regione Emilia-Romagna per lo screening del collo dell'utero. Visita il sito per informazioni.